innovazione, crescita, famiglia, arte, rivoluzione, gratitudine, sacrificio, cambiamento, fiducia, cura mi lascia sicuramente cambiato sia come persona che come danzatore credo che mi lasci la consapevolezza di un nuovo corpo, una nuova danza che mi fa sentire bene mi lascia una consapevolezza verso me stessa, la mia persona e verso la mia arte sicuramente l'esperienza più bella è stato il viaggio studio a Wuppertal da Pina Bausch nel quale ho avuto anche l'opportunità di conoscere Marina Abramovic una delle esperienze più belle in questo triennio è sicuramente il Summer Lab a mio parere è stato bello vivere in residenza con diversi coreografi dai diversi stili è stato bello imbattersi nei loro linguaggi e capire come siano complementari l'uno con l'altro l'esperienza più bella è stata la residenza con Philip Kratz il coreografo per il diploma per me è stato complesso lo studio del teatro danza la tecnica contemporanea la storia della danza teatro danza l'elise e il floor work la danza contemporanea con la maestra lì teatro danza musica la storia del teatro danza tecnica contemporanea teatro danza musica 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 musica